Non è la prima volta che ci siamo dovuti fermare. In quasi 140 anni di storia sono stati tanti i momenti difficili. Ogni volta li abbiamo affrontati con la forza dei nostri valori e superati con la tenacia degli uomini e delle donne che hanno accompagnato l'azienda in tempi buoni e in tempi avversi. Sei generazioni Bertazzoni, i nostri collaboratori in Italia e nel mondo. Una sola famiglia con il pallino dell'eccellenza e la missione di migliorare la vita delle persone. Abbiamo radici in una terra ricca e fertile dove si incontrano ingegneria e una cultura gastronomica secolare. Qui vengono fabbricate le autosportive che fanno sognare il mondo e qui cresciamo sentendo il profumo del ragù che cuoce in pentola. Potete immaginare un luogo migliore dove far nascere i nostri elettrodomestici? Continuiamo a lavorare con passione per portare la meraviglia che ci circonda alle persone nelle vostre case. Noite ci siamo.